Tutta Lugano con le mani, tutti insieme, tutti insieme, tutta la pista con le mani, tutti insieme. Perché giocare d'estate ci permette di introdurre diverse componenti nel lavoro che fanno i ragazzi, quindi vai a spingere tutto quello che è il senso del gioco, vai a spingere la loro parte competitiva e il gioco è un po' la fase finale di tutto il lavoro che facciamo a livello di forza, esplosività, resistenza, tutte queste cose. E' proprio il palcoscenico dove vai a mettere tutto in pratica e quindi ci permette di lavorare senza sembrare di lavorare per i ragazzi. Quando metti un po' di competizione nel lavoro si sa che l'intensità aumenta e facendo così siamo tutti contenti.